Formazione annunciata per la Sangio a Carpaneto, Scoscini scala in difesa per Calori, Papini a destra per l'infortunato Coadio, Lunghi sulla linea dei trequartisti rimpiazza lo squalificato di Santo, alla prima occasione la Sangio passa, conquista una bella punizione Nannini dal vertice, sulla palla Mazzolli sfrutta l'indecisione di posizione di Herrera e lo fulmina sul primo palo. Metà frazione, non si intendono Scoscini e Scarpelli, colpo di testa all'indietro del centrale, la sfera sfinisce sul fondo, altrimenti sarebbe stato il pari. Minuto 35, sbaglia il rinvio Mazzolli, assist da Mauri a Bernasconi, tocca con la mano Bini ed è a rigore, cartellino giallo, sul dischetto però Rantier è meno preciso che è all'andata e spedisce alto. Attenzione poi a Nannini che chiude il triangolo con Jukic e dal limite piazza al diagonale a gonfiare la rete, vicino al montante opposto, 2-0. Nella ripresa è calato anche il tris subito dagli azzurri, dal corner di Chechi è ispirato Jukic che imita quanto fatto in quel di Rimini e di testa trafiggi ancora Herrera sul primo palo. Ormai la gara sembra non aver più niente da dire, cerca gloria personale Chechi, conclusione dal limite centrale. Presto arriva la riscossa a Piacentina, scappa a secoli in anche a Scarpelli, rimediano sulla linea i centrali azzurri quando il punto della bandiera della Vigor sembrava fatto. Quindi Silla entrato ad inizio ripresa da sfoggio di tecnica ed agilità con un destro a girare sotto la traversa che chiama Scarpelli alla deviazione in angolo. Un minuto e controbalzo di Rantier a scendere, ancora decisivo il portiere azzurro a deviare sul legno orizzontale. Tanto tuona che piove con fogliazza che incursione in area sua massimizza il traversone di Bernasconi per l'1-3. Proprio all'ultimo istante, il secondo penalty per i padroni di casa della giornata, Bernasconi è atterrato da Papini, stavolta Rantier trasforma ma nemmeno si ribatte dal centro. Tutti sotto la doccia, tre punti playoff per il Marzocco che vince 3-2.